wow le ricette di zio roberto buon appetito amici buongiorno oggi andremo a fare la carne alla pizzaiola rivisitata e corretta dal sottoscritto cioè nel senso che aggiungerò delle cose particolari che daranno un'impronta mia abbiamo bisogno di pomodori preschi in questo caso piccadilli prezzemolo aglio cipolla origano capperi olive bianche e metteremo dei carciofi a sott'olio questa è la carne che userò sono e l'acerto tolto di qualsiasi forma di grasso o venus che che si voglia è molto tenera per cui verrà alla pizzaiola una buona una buona carne poi userò olio di frantoio come al solito peperoncino e rosso e nero pepe nero e sale quanto basta andrò a fare pezzettini non molto grossi per cui da questa fetta cercherò di farne così due questa questo modo ecco non non andrò a fare pezzi grossi ecco questo di qua dividerò in due ecco qua così naturalmente come al solito ne faccio un po di più in modo che poi posso surgelarla ora ora prendiamo ma diventiamo un attimino qui prendiamo alla terra della terra parla questa parte di quando vi facciamo un attimo ecco qua ecco qua mi preparo a tutto il lavoro preparato questa andiamo a mettere dal suo lato così me la trovo pronta per poi metterla sul fuoco così già è tenera di partenza ma con questa battuta lo diventerà ancora molto di più prendiamo i motorini li prendiamo così li tagliamo in quattro senza bisogno di togliere la pelle e li mettiamo direttamente così con tutta la pelle l'aglio ce lo facciamo in questo modo adesso mettiamo olio questa è la quantità che devo fare fondante meglio abbondare che difficile vabbè poi il sughetto è la cosa più importante anche della canna a pizzaiola ecco qui bene l'olio è caldo mettiamo il nostro aglio e cerchiamo di non farlo di rosolarlo dorarlo ma non di farlo bruciare vi raccomando ora andiamo a inserire la cipolla bene a questo punto andiamo a mettere un po' di capperi e poi gli altri metteremo successivamente poi le olive poche poche adesso una spruzzatina di crozzemolo ora voilà i pomodori i pomodori ora andiamo a mettere le spezie peperoncino rosso pepe nero sale poi andiamo a giustarlo quando inizierò a fare gli assaggi bene sono passati appena appena dieci minuti quindi a questo punto andiamo a completare mettendo la nostra carne anticipatamente in frittura avevo messo come avete visto i capperi un po' di prezzemolo un po' di olive nere adesso andiamo a mettere il resto che cuoceranno assieme alla carne per cui le olive un'altra spruzzatina di prezzemolo gli altri capperi i carciofini Adesso cambieremo fuoco, andremo a mettere in un fuoco più basso perché dovrà cuocere lentamente il tutto assieme alla carne origano, poi ne metteremo un altro po'. Ora andiamo a sistemare in questo bel letto la nostra carne. La metteremo a fuoco lento, poi andremo ad aggiustare sia di sale che eventualmente di peperoncino. A questo punto vado a mettere poco poco di concentrato, anche per dare un certo colore al nostro sumo. La nostra carne alla pizzaiola ha assunto l'aspetto di carne alla pizzaiola ed è ottima di tutto. Vedete? La carne, i miei pezzettini di carne, questi qua, poi ci sono le olive, tutto. Il sughetto è eccezionale, comunque gli darò altri 5 minuti di cottura. Adesso in questo momento do un'altra spruzzatina di prezzemolo. lascerò cuocere altri 5-10 minuti, dopodiché la spengo. Ecco la nostra carne alla pizzaiola, per cui andiamo a mettere un po'. Non vi nascondo l'odore di questa carne alla pizzaiola. Sono tronchetti. Ecco qua. e buon appetito a tutti. Fatela, è veramente ottima. Alla prossima. Iscrivetevi e qualche mi piace, tiratelo fuori. Buon appetito. Buon appetito.